Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Le previsioni di oggi sono un'estensione di quelle che faccio normalmente a gruppi di tre segni, quindi sono letture sul lavoro per tutto il mese di dicembre, ma un po' più estese rispetto al normale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche e lavorative per il mese di dicembre 2023. Abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione. Quando c'è la stella si può parlare di nuovi obiettivi, di nuove idee, anche perché no? Normalmente sono le idee che arrivano così da un momento all'altro, sono le intuizioni, le folgorazioni, diciamo così. Può anche parlare per qualcuno di una direzione, diciamo, del trovare una direzione più in linea con se stessi, proprio a livello appunto lavorativo o anche magari di scelta di vita. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuona se nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, e la vedete anche scritta qui, e trovate sempre in descrizione il link al video per il nuovo corso di tarocchi di gennaio 2024. Quindi sono aperte le iscrizioni, se ne volete sapere di più potete o guardarvi il video o scrivermi un'email a questo indirizzo. Bene, andiamo a vedere. Ok, abbiamo una regina di pentacoli, la temperanza, un 4 di coppe, abbiamo il carro, il papa, 8 di bastoni e imperatore. Allora devo dire che si parte da una situazione direi di stabilità, perché comunque abbiamo una regina di pentacoli e la carta della temperanza. Sì, probabilmente qualcuno nel mese di dicembre dovrà un attimino calibrare per che cosa spendere, sono curioso di vedere questo quadro di coppe. Però ecco, diciamo che la regina di pentacoli potrebbe anche rappresentare una persona, qui ragazzi, potrebbe anche essere una persona che magari vi dà un aiuto, non tanto magari di tipo economico, ma potrebbe anche essere un aiuto di tipo pratico, però diciamo che inizialmente le energie, insomma, non sono male. Andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo da questa regina di pentacoli. Abbiamo la carta degli amanti, scusate, c'è questo peletto della maglia, e un re di bastoni. Allora, come vi dicevo, le cose sono piuttosto in equilibrio, sono in armonia. Siete appagati, devo dire che se fosse un aumento di ruolo, ragazzi, perché il fatto che ci sia re e regina può far riferimento o al fatto che ci sia una collaborazione in armonia con qualcuno, o per magari un gruppo può rappresentare una storia d'amore nel posto di lavoro, o comunque inerente a quello che è il lavoro. Può stare anche con un cliente per farvi capire, o cose di questo genere. Andiamo a vedere l'alchimista. Sette di bastoni, no, scusate, nove di spade e nove di coppe. Guardate, ragazzi, è come l'idea che questa carta della temperanza parla anche di guarigione. Ed è come se nel mese di dicembre riusciste a trovare un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di soddisfazione personale. È come se iniziaste a vedere il bicchiere a mezzo pieno, i vostri punti di vantaggio. Ecco, adesso andiamo a vedere questo quattro di coppe, perché voglio andare a vedere che cosa non è riuscita a vedere. Che interessante, il carro ed è uscito tutti e due, sono usciti tutti e due al contrario, e il sole. Perché ho la sensazione che qualcuno vorrebbe dare di più ai figli, ma in questo momento non si può? È come se si volesse magari regalare un viaggio, regalare un mezzo, regalare uno spostamento, ma è come se non si riuscisse. O è come se, non lo so, c'è qualche cosa a livello economico che un po' blocca. Non dico che stiate male, cioè nel senso che, però, è un po' come se... fossero in questo momento di dicembre giusti, non ci fosse così tanto avanzo da potersi permettere qualche cosa in più. Ovviamente non è così per tutti, eh. Però è come se ci fosse qualche remora nello spendere, o per un viaggio, o per una macchina nuova, o per un mezzo di trasporto, o per una scelta, un qualche tipo di percorso che si vuole fare, o può essere, se non è per voi, appunto per i figli, come se voleste spendere di più, investire di più, fare qualcosa di più, ma o non vi fidate, o non avete ancora quel tipo di abbondanza che vi permette di sperperare di più, diciamo così. Andiamo a vedere questo carro. Allora abbiamo un 2 di pentacoli, cavaliere di coppe e la forza. Allora, qui devo dire che è come se ci fosse un qualche schema di comportamento, o schema ripetitivo, diciamo così, sia che sia in una situazione, sia che sia in una relazione, che secondo me non porta da nessuna parte. Qui, con il cavaliere di coppe, Allora, uno potrebbe essere un'offerta che vi potrebbe arrivare da qualcuno vicino a voi, e per qualcuno potrebbe essere un amico, per qualcun altro il partner, soprattutto se qui parliamo di una situazione lavorativa dove c'è anche in mezzo una relazione romantica, però è come se ci fosse la voglia, la volontà, la possibilità, anche, di rompere questo schema di comportamento, che è, diciamo, vizioso. Andiamo a vedere il Papa, perché il Papa è una bella carta, è una carta di contratti, è una carta di ufficializzazione. Andiamo a vederlo. Abbiamo la temperanza nuovamente e l'appeso. Guardate, il Papa potrebbe anche fare riferimento ad una guida, quindi qui ci può essere anche un consiglio, ragazzi, ad affidarvi a un contabile, piuttosto che a un esperto in marketing, piuttosto che X persona, in modo da avere un'idea più chiara di tutta la faccenda, di tutta la situazione lavorativa, del perché hanno riuscito a fare questo movimento, questo cambio di direzione, insomma, è come se avessi bisogno di raccogliere più dati. E questo Papa potrebbe rappresentare proprio la persona che vi guiderà, diciamo, verso la fine di dicembre e inizio 2024 anche, però penso che sarà una persona importante, potrebbe anche semplicemente essere un collega con il quale avrete una chiacchiera, un confronto, che vi darà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Adesso voglio andare a vedere questo 8 di bastoni al contrario, 3 di pentacoli, e 7 di pentacoli. Allora ragazzi, qui si tratta di studiare qualche nuovo modo di collaborare con gli altri. e vi dico che se per caso questa collaborazione o quest'unione all'inizio fosse segreta, qui vi dicono di non dire niente a nessuno, di mantenerla segreta, di aspettare fondamentalmente che le cose siano stabili. Sì, è un po' come se qui ci fosse la prospettiva di qualche cosa di nuovo, l'uscita da questa vostra situazione è un po' statica, perché comunque con la carta della temperanza due volte e il 7 di pentacoli l'energia è piuttosto ferma e avete anche due volte il carro al contrario, quindi indica proprio un momento lento in questo senso. Però comunque c'è la possibilità di uscire da questa situazione, ma è come se dovesse raccogliere le idee, le offerte, le proposte, le guide di qualcuno di esterno, perché così come siete effettivamente non vedete e avete bisogno di questa guida, di questo papa, che può essere anche un libro, può essere un corso di, non lo so, di investimenti su YouTube, non lo so, quello che serve a voi per il vostro lavoro o per vedere più chiaro su quello che è il vostro percorso di vita lavorativa, perché per qualcuno qui il fatto è che non ci si riesce a muovere da una certa, mi viene da dire settore, da una certa realtà lavorativa. Andiamo a vedere l'imperatore. Wow. Dieci di pentacoli. Ragazzi, e asso di coppe. Ragazzi, le cose diventeranno più stabili. Quello che vi consigliano le carte è di fare le cose alla luce del sole, in modo retto, corretto, perché avete sia l'imperatore che è una carta di, scusate, sia il papa che è una carta di contratti, ma anche l'imperatore è una carta di stabilità, di concretezza. E il dieci di pentacoli di nuovo, è una carta di contratti, di conclusione, di compimento ciclo, di un risultato raggiunto, è una carta che parla di soldi, è una carta che parla anche di eredità, di promozioni a livello lavorativo, e l'imperatore può essere proprio il ruolo che andrete a raggiungere. C'è comunque un nuovo inizio, con amore, con dedizione. Guardate, le carte sono bellissime, vi dico, potrebbero arrivare di nuovo i contratti, se siete senza lavoro, sarà più verso il 2024, che non verso dicembre 2023, però dipende anche lì dalla data di nascita in cui siete nati, appunto. però tutto sommato ragazzi, sono carte direi molto positive. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Gravame, che interessante. e si è divertimento. Allora, questo sei di spade lo sento collegato al quattro di coppe. Mi è anche venuto istintivo a metterlo sotto proprio, anche se poi, vabbè, le carte sono sempre un po' in centro lettura. ma comunque fa riferimento a tutte quelle che sono le aspettative che hanno gli altri su di voi. Vedete, qui c'è una persona che sta caricando un'altra persona che gli dice dove andare, che ha comunque un altro peso sopra di lei. Quindi è un po' come se voi foste queste persone e vi caricaste degli obiettivi degli altri. Infatti è per quello che secondo me qui avete la stella. Qual è il vostro obiettivo? Dove volete arrivare voi? Cosa vi serve per muovervi da lì? Perché lì non è che stiate male, ma è come se non foste completi. Vi manca qualcosa. Vi manca una coppa. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. però la coppa arriva, ce l'avete poi qua alla fine. Ecco, guardate che carta. Ah, scusate, poi c'era anche il divertimento che non vi ho detto. La carta del divertimento è un invito a prendere la vita con un po' più di filosofia, a giocare un po' di più. Cioè, divertirsi nel mondo del lavoro anche. Si può essere seri senza essere seriosi, cioè senza essere sempre col grugno per capirci. Ok? E poi qui abbiamo chiedete per un aiuto. E qui intende sia un aiuto di tipo pratico fisico magari, o potrebbe essere questo aiuto di questo papa, di questa guida. ma parla anche di aiuto angelico, cioè chiedete la protezione degli angeli, chiedete all'entità di forza superiore di guidarvi. Poi sta a noi leggere i segnali che ci danno, però loro ce li danno i segnali quando noi chiediamo qualcosa. E poi abbiamo motivazione. Qui vi dice fondamentalmente che qualsiasi sia stato il vostro progetto, il vostro sogno nel cassetto, quello a cui avete lavorato fino ad adesso, una volta che avete ben chiara come sviluppare la cosa, è ora di mettersi in moto, è ora di agire, è ora di fare qualche cosa per rendere concreta il vostro sogno, il vostro obiettivo. Qui avete la stella, c'è qualcuno qui che sta puntando, che ha un'idea. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, perché è una lettura veramente interessante. Spero che comunque vi abbia dato degli spunti di riflessioni utili. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete comunque iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di Tarocchi, trovate comunque il video sotto in descrizione per i dettagli o mi potete comunque sempre mandare un'email. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!